Individuata in Abruzzo la variante brasiliana del Covid. Dopo i casi di quella inglese a Guardia Grele, l'Istituto Zoprofilattico ha evidenziato tre casi di Covid brasiliano a Poggio Picenze, in provincia dell'Aquila. A renderlo noto il presidente della Giunta abruzzese Marco Marsilio nel corso del Consiglio regionale. I casi di positività fanno riferimento ad un'unica famiglia di ritorno dal Brasile, che al momento è stata messa in quarantena. L'Istituto Terramanora provvederà ad isolare il virus, che verrà sottoposto al vaccino Pfizer, così da verificare se il farmaco riesca a proteggere anche da questa variante. Questa è la seconda volta che il ceppo brasiliano è stato individuato in Italia. Il primo caso riguarda un uomo di Varese di ritorno anche lì proprio dal paese sudamericano. Questa variante, così come quella inglese e quella sudafricana, si diffonderebbe con maggiore facilità. I tre casi riscontrati oggi in Abruzzo portano così a 152 il numero dei contagi nelle ultime ore, ovvero poco oltre il 2% dei 6.977 test processati, di cui 4.182 antigenici e 2.795 tamponi molecolari. Il più anziano tra i casi odierni ha 87 anni, il più giovane 6 anni. 17 morti, 1.435 dall'inizio della pandemia. Quelli delle ultime ore avevano un'età compresa tra 48 e 95 anni, 9 in provincia di Chieti, 3 in quella di Teramo e 5 in quella di Pescara. 284 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo sono 10.047 positivi accertati, meno 149 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 415 pazienti, meno 11 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 42 in terapia intensiva, meno 2 rispetto a ieri ma con due nuovi ricoveri. Mentre gli altri 9.590, meno 136 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Questi numeri forniti dall'assessorato regionale alla sanità.